Giovedì 27 aprile 2017, buongiorno dalla redazione di Teredauna e ben risolvati anche oggi all'appuntamento con il Tg della mattina. Andiamo subito sulle prime pagine della Gazzetta del Mezzogiorno per la rassegna stampa, leggiamo l'apertura, PD un teleconfronto al veleno, primarie dunque Emiliano diventato il partito dei potenti, ha detto il governatore pugliese, Renzi a Orlando hai votato tutto con me, il ministro risponde sì alla patrimoniale, Mattarella striglia del Parlamento, approvate subito la legge elettorale, governo compatto, all'Italia non sarà nazionalizzata, i vescovi in campo. Vedete anche la vignetta di Pillinini a proposito delle primarie del PD e dei tre candidati alla segreteria del Partito Democratico, tutti per uno, per uno scranno, dunque per una portona, per un posto. Nei 60 minuti del primo e unico confronto TV, i tre candidati alla segreteria del PD sono apparsi lontani, nella parte finale non sono mancate frecciate al veleno per marcare le differenze sui temi come la patrimoniale di 80 euro, ma anche sui diritti come quello all'aborto o al fine vita. Ricette diverse anche su Alitalia, su questo fronte il governo continua a escludere la nazionalizzazione della compagnia e preme per un prestito ponte, 3-400 milioni di euro per consentire di andare avanti per altri sei mesi, in cui dovrà avvenire la vendita. In campo anche la conferenza episcopale italiana. E a proposito, vedete dei tre candidati alla segreteria del PD, tre tenori, tre spartiti per un partito da riscrivere. Match nullo, in un incontro di box l'arbitro non avrebbe difficoltà a decretare il pareggio. Più che un film, che per definizione è una trama articolata e un esito imprevedibile, Emiliano, Orlando e Renzi sono apparsi immobilizzati in una foto, ognuno a recitare la sua parte. TAP si preannuncia la battaglia sul microtunnel, forse serve una nuova via. Continuano le proteste a Melendugno e a San Foca, dove è stato già edificato una parte del cantiere del TAP. Per far crescere l'economia e il lavoro, vedete, il Presidente degli Stati Uniti, Trump, taglia le tasse alle industrie e ai cittadini. Uno dei punti di forza della sua campagna elettorale, dunque, è partito negli Stati Uniti. Poi vedete, non si scherza sulla scuola, scrive Enrico Simonetti, ogni tanto la politica è evidentemente impegnata in cose ben più importanti, si ricorda del mondo della scuola e viene da pensare che farebbe meglio a non farlo. Prendete qualcuna delle ultime proposte, come il sei politico o il formulario di matematica agli esami. Corre l'auto, utili da record per Fiat Chrysler Automobile, il titolo vola in borsa. Poi vedete, moriva 80 anni fa, così si diffuse il mito di Antonio Gramsci. Al Brennero, un treno fuori controllo uccide due operai. Incidente ferroviario al Brennero. Poi vedete, il cortocircuito stampa politica. La notizia buona è che l'Italia ha scalato ben 25 posizioni, passando dal 77 al 52 posto della classifica che dà conto della libertà di stampa nel mondo, redatta annualmente da reporters sans frontis diffusa ieri. Quella cattiva è che i nostri giornalisti non solo sono minacciati dalla criminalità organizzata, ma subiscono pressioni da parte dei politici. Servono 980 milioni di Euro per acquistare l'acquedotto pugliese. Nel 2018 la regione dovrà dismettere la più importante società pubblica del Sud. Da oggi il tavolo per decidere il futuro. Criminalità sottovalutata. Va aumentato il contrasto. Potenziare le forze di polizia e della magistratura. L'esito della visita a Foggia della Commissione Antimafia, preseduta dal parlamentare Rosi Bindi, ha eseguito una serie di audizioni ieri con tutte le autorità del governo a Foggia e le autorità, i vertici delle autorità militari e della pubblica sicurezza. Vediamo adesso la prima pagina della Gazzetta di Capitanata. Si parte proprio dalla criminalità sottovalutata. Vedete, criminalità sottovalutata. Va potenziato il contrasto. Emergenza sicurezza nel corso dell'audizione. Non scartata l'ipotesi di istituire la direzione investigativa antimafia, la direzione di settore antimafia e una sezione della Corte d'Appello a Foggia. La Commissione Antimafia dice più uomini e mezzi tecnologici. La Presidente Bindi chiederemo al governo di scattare una fotografia realistica su Foggia. Dunque, la provincia di Foggia richiede una rilettura dei propri organici di magistratura e forze di polizia, sia in termini qualitativi che quantitativi, compreso l'innesto di forze nuove. Qui, oltre a pensare ai numeri, bisogna pensare alle specializzazioni per saper leggere realtà come queste che hanno una loro tipicità. Lo ha detto la Presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosi Bindi, alla fine delle audizioni con i protagonisti della lotta alla mafia e alla delinquenza comune. La Commissione Antimafia si è occupata anche della questione dei ghetti e della sottovalutazione delle mafie locali. Poi vedete la fotonotizia, si torna a parlare del Gino Lisa. Tutto fermo sull'aeroporto, partono le denunce, la mossa del Comitato di Vola Gino Lisa. Finanziamenti spesi senza alcuna utilità. Ora andremo alla Corte dei Conti. Aeroporto sempre più distante dalle politiche della Regione. Il Comitato di Cittadini Vola Gino Lisa ha chiesto all'Avvocato Enrico Follieri di verificare le inadembienze di aeroporti di Puglia, sia sui mancati lavori per la pista, sia sugli 11 milioni di euro già spesi, ma senza alcuna utilità, visto che non ci sono voli. A Libando nasce l'idea, la città del grano. Quattro giorni di eventi in sei piazze del centro storico e migliaia di visitatori. Il bilancio di Libando che lancia il marchio Foggia Città del Grano. Manfredoni a deposito Energas, i movimenti civici ribadiscono il no. Sansevero, impianto per rifiuti, l'opposizione chiede il referendum. A Volturino il Comune contrario a un nuovo parco eolico. Poi vediamo i miei conti lasciati in ordine, dice l'ex sindaco Gianni Mongelli che replica l'attuale sindaco Landella a proposito del richiamo della Corte dei Conti sulla tenuta del bilancio dell'ente. Mongelli respinge le accuse e sostiene di aver lasciato in ordine i conti con il piano di salvataggio dell'ente approvato nel 2013 dal Consiglio Comunale. Il calcio, il Foggia promosso in B, la festa continua allo stadio. Il Presidente Fares è stata fatta una grande impresa, un'enorme soddisfazione per il club e per l'intera città. Non sta nella pelle il Presidente del Foggia, Lucio Fares, dopo la promozione in Serie B. Nel frattempo continuano i festeggiamenti. Ieri ero zaccheria gigantesca tavolata con i giocatori, staff tecnico, sanitario, amministrativo ed ovviamente i dirigenti della società. Domenica il Foggia gioca alle 14.30 contro il Melpi. Vediamo anche l'articolo di Filippo Santilliano, un progetto di rilancio per la Fiera e il suo quartiere. Dunque il settantesimo è dietro l'angolo e a questo traguardo bisogna guardare con attenzione già adesso per arrivare a un pieno definitivo rilancio della Fiera Internazionale dell'Agricoltura e della Zotecnia e soprattutto del quartiere fieristico. Vediamo infine la prima pagina dell'attacco. 2014-2017. La mafia si evolve. Senza grandi squidi di tromba. Ritorna quasi tre anni dopo. La commissione antimafia affoggia l'allarme inascoltato di Rosi Bindi. L'integrazione e federazione tra i gruppi della criminalità di Capitanata, Nuti, Movimento 5 Stelle, dice che non possiamo escludere infiltrazioni nella politica locale. Si fa fatica dunque ad ammettere che in provincia di Foggia le mafie sono cresciute. Dopo la nostra prima missione del 2014 c'è stata un'evoluzione non tranquillizzante e si è resa necessaria una nuova nostra presenza. Rosi Bindi è tornato a Foggia in occasione della nuova missione di una delegazione della Commissione parlamentare antimafia. Tre anni dopo, cosa è cambiato? Consapevolezza di un territorio a rischio, un salto di qualità nelle indagini per affrontare i processi, per poi resistere ai vari gradi di giudizio contro avvocati brasonati che la mafia può permettersi, il nobiletti pensiero. Tre cose da fare per l'antimafia sociale, ha detto e scritto Rosa Barone. Saluto il presidente Bindi e tutti i commissari e vi ringrazio di cuore per la vostra presenza. Vi ringrazio di aver deciso di tornare nella mia terra dopo il 2014. Poi vedete, serve un fronte comune per il bene del PD, scrive Lorenzo Frattarolo, a pochi giorni dalle primarie del 30 aprile e sono più che mai convinto, scrive Frattarolo, della scelta che ho fatto, in coerenza con tutto il mio percorso politico, di sostenere Matteo Renzi alla segreteria del PD. Non è un impegno basato sul fideismo? Penso che il grande slancio di formatore, impresso da Renzi al governo nazionale, non abbia avuto lo stesso parallelo cammino per quanto riguarda il partito. Mongelli ripercorre il calvario dell'eterno dissesto, l'andella, non fare l'indiano, le contestazioni della Corte dei Conti, l'eredità del centrosinistra e i nodi da sciogliere. Dura risposta dell'ex primo cittadino Gianni Mongelli al suo successore con invito netto a non mandare solo sterili segnali di fumo. L'ingegnere chiede un confronto pubblico all'attuale primo cittadino per cristallizzare punto per punto inefficienze amministrative, mancanze e divergenze. Gino Lisa Enrico Follieri promette battaglia. Il comitato Vola Gino Lisa ha diffidato la regione Puglia e aeroporti di Puglia. Ad annunciarlo ieri è stato il nuovo legale dell'associazione, il noto amministrativista e docente universitario Lucerino Enrico Follieri, che si è messo gratuitamente a disposizione per tentare di far tornare a volare gli aeroporti dal capoluogo Dauno. Rigenerazione urbana, colcuruto, salento più avanti per la progettualità, l'integrazione tra pubblico e privato, stanziare polemico, poche risorse. Il clima è impazzito, l'agricoltore disorientato. Qual effetto il cambiamento climatico ed altri mutamenti diffusi, sia a livello nazionale che internazionale, hanno sull'agricoltura attuale e sul futuro? La soluzione è dare maggiore spazio possibile all'agricoltura, recuperando i terreni che si sono persi. Da 17 milioni di superficie agricola a 12 milioni. L'analisi è di Maracchi. Maracchi. Barzellette e pensierini a teatro, la strana coppia Mancini-Casolaro. Una raccolta di barzellette in tanti anni di onorata carriera. Il libro di Giovanni Mancini, dal titolo Pensierini della sera, sarà presentato sul palco d'autore di Pino Casolaro. La bottega degli apocrifi diventa giovane, primo appuntamento dei laboratori, venerdì 5 maggio. Poi vedete, premio Seneca, a Bari un pezzo di capitanata, commissione di spessore, motivo di orgoglio. Andiamo nella parte alta della pagina e vedete, impianti ok, ma non si usano. Il difetto di comunicazione negli impianti incoraggia un business oscuro. Parliamo naturalmente di rifiuti. Paolo Verrone, tra gli Spets Nuts, l'istruttore sanseverese, si sta facendo valere nelle antiche arti marziali. E poi vedete, rossoneri, foggia calcio, papu dance, sì, la festa è tutta allo zac. Tra pranzi allo stadio e frasi social, il Foggia sta festeggiando al meglio la promozione in serie B. Eccoci all'interno della gazzetta di capitanata. Ieri, dunque, dopo circa tre anni, torna a Foggia la commissione parlamentare antimafia presieduta dall'onorevole Rosi Bindi. Si è tornati a Foggia per fare il punto della situazione a distanza di due anni. La mafia è cresciuta anche perché è stata sottovalutata. Criminalità sottovalutata, vedete, il titolo, va aumentato il contrasto. La commissione antimafia, il governo deve guardare a Foggia. L'onorevole Bindi dice c'è stata negli anni una sottovalutazione delle mafie autoctone, anche se lo Stato c'è. Bisogna rafforzare gli organici delle forze di polizia e della magistratura, ma anche l'azione di intelligence. Dunque, la giornata della commissione parlamentare antimafia è cominciata ieri mattina, intorno alle 11.30, proprio con l'arrivo della Presidente Rosi Bindi. Ci sono state una serie di audizioni, a cominciare dal prefetto a tutti i vertici delle forze di polizia, dunque Guardia di Finanza Carabinieri e Polizia di Stato. Poi ci sono state altre audizioni con il prefetto della BAT e con la direzione investigativa antimafia. Dunque, una serie di audizioni che sono servite a fare il punto della situazione. Ma vediamo intanto le dichiarazioni rilasciate da Rosi Bindi ai nostri microfoni e quelle dei colleghi della stampa appena arrivata a Foggia. Sentiamo. Dopo la visita del luglio 2014 torna a Foggia la commissione parlamentare antimafia, presieduta dall'onorevole Rosi Bindi, che ascolterà il prefetto di Foggia Maria Tirone, il questore Pier Nicola Silvis, i vertici di Polizia Carabinieri e Guardia di Finanza, il capo della direzione investigativa antimafia, il prefetto della BAT, il procuratore distrettuale antimafia di Bari e il presidente della commissione antimafia regionale. Tra i temi principali della riunione, l'esame della situazione incapitanata, anche alla luce degli ultimi gravi episodi messi in atto dalla criminalità organizzata, come anticipato Rosi Bindi, nell'incontro con la stampa. Sicuramente dopo la nostra prima missione c'è stata un'evoluzione non tranquillizzante e quindi si è resa necessaria di nuovo la nostra presenza per un approfondimento perché quanto avevamo intravisto i segnali che già si erano presentati inquietanti nella prima missione purtroppo hanno avuto uno sviluppo non positivo al di là della vigilanza attenta e del lavoro delle forze di polizia, della prefettura e della magistratura. E quindi siamo qui anche dopo le vicende del granghetto per un ulteriore approfondimento e vogliamo anche dedicare questa missione a Stefano Fumarulo che ci ha lasciato in maniera tragica la vigilia di Pasqua. Ha studiato il fenomeno mafioso, ne ha individuato le dinamiche ma ha saputo anche contrastarle con grande intelligenza, con grande equilibrio. Io credo che le mafie della capitanata abbiano potuto insediarsi, crescere perché c'è stata per troppo tempo una sottovalutazione da parte di tutti. Ancora si fa fatica ad ammettere che questa è terra nella quale la mafia, le mafie perché poi come voi ben sapete non è soltanto una, hanno avuto la possibilità di crescere e di svilupparsi purtroppo anche con un accordo con la comunità età comune che è molto inquietante. Ecco, come mai a livello decisionale, a livello giudiziario non si riconosce ancora appieno che esiste questa quarta mafia come è stata definita dal procuratore nazionale antimafia? Ce lo siamo detti anche l'altra volta ma non è solo anche questo un problema di Foggia. La specializzazione che abbiamo ottenuto in Italia con le procure forse dovremmo imporcela anche nella magistratura giudicante. Però dei passi avanti da quando siamo venuti l'altra volta ne sono stati fatti. Lo scioglimento del comune, alcuni accertamenti giudiziari che hanno assicurato alla giustizia criminali pericolosi. Quindi noi siamo qui non solo perché è cresciuto il fenomeno ma anche perché è cresciuta la consapevolezza del fenomeno. Dunque avete sentito l'analisi di Rosi Bindi, Presidente della Commissione Parlamentare dell'Antimafia. Dunque l'incontro è continuato nel pomeriggio con l'audizione anche di Rosa Barone del Movimento 5 Stelle. La Presidente Barone ha descritto analiticamente alcuni obiettivi e poi ha parlato dell'importanza di dotare il nord della Puglia e la provincia di Foggia in particolare di una sezione della direzione investigativa antimafia, già richiesta in pratica dalla regione Puglia e che aspetta il parere del Ministro Minniti. La consigliera del Movimento 5 Stelle ha poi richiesto un'attenzione particolare da parte della direzione di settore antimafia e ha ribadito la necessità di avere una sezione distaccata su Foggia della Corte d'Appello esigente, condivise ed ascoltate, recepite con attenzione da parte di Rosi Bindi. Dunque lo scenario delle mafie territoriali, si è parlato di questo, dello sviluppo delle attività criminali delle famiglie foggiane. Avete sentito anche una serie di mafie diversificate tra loro, il riferimento naturalmente è anche alla mafia garganica. Si cambia argomento, vedete sulla gazzetta, sullo stallo del Ginolisa, lavori sulla pista, tutto tace e il tempo passa. Sullo stallo Ginolisa un danno era reale, il comitato dei cittadini di Fida, aeroporti di Puglia, andremo alla Corte dei Conti. L'Avvocato Follieri dice, attendiamo una risposta entro il 7 maggio, nel Milino gli 11 milioni di Euro già spesi senza alcuna utilità. Dei 14 milioni per allungamento non sappiamo nulla, se siamo a questo è perché la politica non ha fatto il suo dovere. Continua dunque la protesta del Movimento Volagino-Lisa che vuole portare alla Corte dei Conti appunto queste problematiche sotto accusa naturalmente aeroporti di Puglia. Vedete che è stato diffidato. E la mostra sullo scalo richiama visitatori anche dagli Stati Uniti. Fino al 1 maggio l'aeroporto Ginolisa va forte come pezzo d'antiquariato. Vedete la mostra in corso fino al 1 maggio presso l'archivio di Stato che continua a riscuotere grande interesse. Grandi dighe, il consorzio apre il confronto con la regione. Stamattina in Camera di Commercio presenti gli assessori di Gioia e Piemontese. Educazione alimentare, vedete, dieta mediterranea incontro della di Consum alla Zingarelli da Feltre. Foggia diventa città del grano. La città attrattiva, lo street food festival, folla di partecipanti all'Ibando, viaggiare mangiando, migliaia di persone alla quattro giorni ospitate in sei piazze e dedicata a gastronomia, cultura, musica e anche calcio. La cena con le mamme dei vicoli a base di parmigiano di melanzane, cavatelli con ragù, cardongenti con l'uovo e grano cotto. Poi vedete l'annuncio del sindaco a Libando, un cartello turistico agli ingressi della città. Dunque, sotto la scritta Foggia, comparirà Foggia città del grano, un po' come accade in alcuni paesi, per esempio, che si autodefiniscono città dell'olio. Verso le primarie del Partito Democratico, comitati per Emiliano, è il momento di Foggia. Oggi la convention per il candidato alla segreteria del Partito Democratico. In programma oggi ci saranno anche l'onorevole Colomba Mongello e l'assessore regionale piemontese. Eventi dal 29 aprile al 1 maggio, i mercatini nel viale della stazione, antiquariato, artigianato e prodotti tipici. Tre giorni di eventi e manifestazioni con orario continuato lungo il viale della stazione. Queste e alcune iniziative organizzate dall'assessorato comunale delle attività economiche previste per il 29 e 30 aprile e 1 maggio sul viale 24 maggio. Cinque giornate di eventi e manifestazioni sul cosiddetto viale della stazione. Opportunità per tornare a vivere il quartiere che si sviluppa a ridosso della stazione ferroviaria è strumento per provare a mettere in campo una riqualificazione dell'aria. Conferenza sull'Alzheimer e la malattia del secolo. Oggi è la nuova a San Francesco a partire dalle ore 17. Diamo qualche notizia dalla provincia. No del comune al parco eolico localizzato su zona verde agricolo. Questo a Volturino. Il sindaco dice non possiamo ignorare quanto previsto dal piano regolatore generale. Il progetto presentato alla provincia prevede la realizzazione di 18 torri per complessivi 57 megawatt. Poi ancora Rocchetta Sant'Antonio. Il comune non favorì la fortore assolto un funzionario Mastopietro. Costruzioni di parco eolici. Legittimi anche i provvedimenti emessi da fedele Luisi di Biccari. Lucera Autismo si inaugura oggi il centro territoriale dell'ASL. Il nuovo servizio farà diagnosi e cura ma anche formazione di professionisti. Il 29 e il 30 aprile fantastico raduno delle Harry Davidson a Sant'Agata di Puglia. Tutto pronto per il quarto raduno Custom Sant'Agata di Puglia. appunto che dal 29 e il 30 aprile vedrà protagonista appunto i bolidi a due ruote a Sant'Agata. Sansevero impianto di compostaggio. Il sindaco fermi il progetto. Fratelli d'Italia auspica un referendum popolare. Per ora si bruciano le polemiche. Mentre i 5 Stelle auspicano una progettualità con minore impatto ambientale sul territorio. Torre Maggiore in 800 al raduno biennale dei soci Vespa Club. Il paese invaso e visitato dagli ospiti. Poi ancora Sansevero bullismo a scuola. Focus con esperti per mettere un freno. Manfredonia. I movimenti chiedono di fermare il megadeposito GPL dell'Energas. I civici vogliono esserci alla prossima conferenza di servizi al Ministero dello Sviluppo Economico. Magno dice legge e direttive confermano l'incompatibilità con il territorio. Poi ancora mattinata quel sentiero mozzafiato che conduce all'abbazia Trinità Montesacro. Realizzato dal FAI lungo 1.400 metri ma collocato ad oltre 860 metri di altitudine. A San Giovanni Rotondo invece vedete terminati anche i lavori per il percorso nella suggestiva Valle dell'Inferno, itinerario naturalistico nello snodo dell'antica via francigena del Gargano. Secondo la leggenda qui avvenne la conversione di San Camillo dell'Ellis. Cerignola, l'eccidio di 11 soldati italiani uccisi dai tedeschi. Così la città celebra la festa della liberazione. Poi ancora scoppia un incendio, teppisti scatenati in villa ad Ortanova. Intervenuta la polizia locale, i vigili del fuoco e i volontari, il sindaco e l'ennesima provocazione al paese. Andiamo a vedere adesso lo sport. Anzi, restiamo ancora in provincia perché ieri si è tenuta a San Severo in occasione del 25 aprile, quindi il 25 aprile. Lotta contro la criminalità. Si sono allenati, alleati, noti personaggi del mondo dello spettacolo. Michele Pracido, Ambrangiolini, Albano Carrisi, Mauro Di Maggio, Alessandro Haber, Maria Nazionale, Violante Pracido, Sebastiano Somma, Federica Vincenti. E poi il fantastico concerto del gruppo salentino degli Alla Bua, che ha trascinato molti dei presenti a ballare in piazza. La pizzica. Durante lo spettacolo, in piazza, c'è stata anche la telefonata del presidente della regione, Michele Emiliano. Ed ora lo sport, dicevamo, vedete, squadra che vince, non si cambia. Il presidente Fares, il Foggia, ha realizzato qualcosa di eccezionale. Grazie a tutti. La conferma di Stroppa e di Bari, l'organizzazione per la B, l'ampliamento dello stadio, e quella festa in piazza Cavour, che mette i brividi per l'emozione. Vedete intanto la maglia celebrativa della promozione del Foggia, nelle mani del presidente Fares. Ieri intanto una festosa tavolata sul prato dello Zaccheria. Qui vedete i giocatori al torso nudo, in questa tavolata allestita praticamente sul manto erboso dello Zaccheria. La festa continua dunque, l'oferia non va via, a città in bandereato e felice, tifosi in estasi, tra gioia e incredulità. Lo show di domenica scorsa in piazza Cavour è stato eccezionale, con decine di migliaia di supporter rossoneri che hanno celebrato la promozione in un tripudio di cori, bandiere, sciarpe, fumogeni e fuochi d'artificio. Uno spettacolo di partecipazione e passione che ha fatto parlare di sé in tutta Italia. E domenica prossima la gara casalinga con i Melfi, il calcio all'inizio alle 14.30, sarà l'occasione per continuare a celebrare il ritorno di rossoneri nel campionato cadetto. Dunque ieri è questo pranzo, una sorta di picnic, allestito sul tappeto erboso dello Zaccheria. Poi vedete, bentornato Foggia ed ora non fermarti. Gli auguri di VIP, giornalisti e detti ai lavori. Personaggi dello sport, della musica e dello spettacolo, Foggiani e non, tutti, in tanti, si sono congratulati o attraverso i social network o in televisione, a partire da domenica scorsa e poi con il Foggia Calcio per la promozione nel campionato di Serie B. Su Instagram il celebre cantante Eros Ramazzotti ha pubblicato una foto che ritrae i due satanelli, simbolo del club rossonero, e ha aggiunto la frase che bello rivedere il Foggia in un campionato importante dopo quasi 20 anni. Bravissimi! E poi ancora attestati di stima e di congratulazioni al Foggia Calcio da Antonio Polito, vice direttore del Corriere della Sera e tifoso dell'Inter. Poi ancora, sono gli unici rossoneri che amo, ha detto Antonio Polito. Poi ancora il presidente uscente della Lega di Serie B, Andrea Abodi, ha voluto salutare con un tweet la promozione dei rossoneri. Torna in Serie B, ha scritto Abodi il Foggia Calcio del quale due grandi uomini hanno sognato la storia, Tommaso Maestrelli e Zedenec Zeman. E poi ancora tanti, Luca Marcheggiani, Manila Nazzauro, Vladimilusturia, Geggete Telesforo, tutti si sono congratulati con il Foggia per questa promozione. Poi vedete il film, Cosa è successo dall'ultima apparizione in Serie B? In 19 anni, 24 allenatori, promozioni, retrocessioni e tante amare illusioni. Velocemente andiamo a vedere anche lo sport sulle pagine dell'attacco. E vedete, rossoneri scatenati con la Papu Dance, Gomez, replica, siete devastanti. I ragazzi di Stroppa hanno festeggiato la zaccheria verso ora di pranzo, con balli vari in campo e brindisi a base di ciurrasco. A rendere partecipe dell'evento l'infinita pratica di Facebook, ci ha pensato Vacca. Chiricò ha postato la Papu Denso su Facebook e Gomez ha risposto. Il passaggio a una categoria superiore nasce da fattori quali la programmazione. Dunque, il post di Vacca ha fatto il giro dei social e in poche ore è divenuto virale. Poi ancora, da San Pio al pranzo allo Zac, la festa è social. Qualche mese fa la squadra rossonera ha fatto visita a casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Dietro la foto di Rito, sulla scalinata, spunta una lettera, la B. Immancabile il rimando a San Pio, rimarcato anche da Fedele Sannella in un'intervista post-gara domenica dopo Fondi. Intanto si va verso il pienone per la partita di domenica allo Zaccheria contro il Melfi. Tra fuochi e coreografie ci sarà la continuazione della festa promozione. Bene, è tutto per oggi. Termina qui il nostro appuntamento con informazioni. A tutti voi grazie per l'attenzione. Vi rimando alle prossime edizioni per gli aggiornamenti. Buona giornata a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.